Buon pomeriggio a tutti. Mi scuso per il fatto che parlerò spagnolo. Le slide sono tradotte comunque in italiano e io le ho preparate in inglese. Quindi con questo mix di tre lingue spero che riusciamo a capirci tutti. Vorrei ringraziare gli organizzatori di questo evento e in particolare il gruppo Lallemand in Italia che mi ha invitato. Quello che vi illustrerò oggi è un progetto fatto con Lallemand nell'ambito di un progetto europeo. Con il mouse. Bene. Quindi è un progetto fatto all'interno di un progetto europeo. Questo nell'ambito del progetto Marie Curie abbiamo lavorato con questi partner. L'università di Manchester, l'università di Geisenham, l'università di Saragozza con Vicente Ferreira, il nostro laboratorio. L'INRA di Montpellier e anche un gruppo di ricerca italiano, la fondazione Edmund Manc. E poi diversi partner di ricerca tra cui la Lallemand. L'obiettivo era quello di approfondire la nostra conoscenza e come potete immaginare il gruppo Lallemand del mio laboratorio con Montpellier abbiamo partecipato per la parte relativa agli aromi nel vino. Quindi si tratta di una tesi di dottorato della dottoressa Dolores Perez che ha fatto la parte sperimentale in laboratorio. Poi abbiamo lavorato io stessa e José Gugliamon e come vi dicevo è un progetto che non avrebbe potuto andare avanti senza la collaborazione Vicente Ferreira dell'università di Saragozza. Grazie. Se puoi andare un attimo in più piano perché c'è una doppia traduzione anche verso l'inglese. Abbiamo visto quali sono i problemi principali del settore associati con il cambiamento climatico quindi non voglio perdere molto tempo perché li conosciamo già tutti. Volevo dirvi che il nostro gruppo di lavoro si occupa già da tempo di utilizzare questi lieviti del genere Saccharomyces come un'idea per risolvere queste problematiche di cambio climatico. In fermentazione si utilizzano altri lieviti non convenzionali, le veremo nella presentazione, però noi ci occupiamo di questi lieviti non convenzionali del genere Saccharomyces. Ad esempio l'uvarum appare nelle zone fredde, quest'altro invece nelle fermentazioni con cerevisie e le ubaianos nelle birre che vengono fatte con l'utilizzo. Amparo, per cortesia, se è possibile procedere più lentamente. Questi lieviti hanno delle proprietà fenotipiche molto importanti, ad esempio hanno un basso rendimento in etanolo che è quello che ricerchiamo, un aumento degli acidi organici e quindi favoriscono il profilo aromatico variantale. Abbiamo visto che hanno un profilo aromatico diverso rispetto a quello di Saccharomyces cerevisie, più simile ai lieviti non Saccharomyces che si utilizzano attualmente in olologia. Per tutti questi motivi volevo dire tutti, che pensiamo tutti che il vino abbia condizioni di fermentazione ottimali, in realtà no. Per i lieviti trovarsi questa alta concentrazione zuccherina a pH basso e talvolta a bassa concentrazione di azoto sono condizioni stressogene e quindi probabilmente Saccharomyces cerevisie è il più adatto. Per questo motivo facciamo dei coinoculi perché i lieviti che utilizziamo non sempre impiantano. Questo avviene anche con queste specie all'interno del genere Saccharomyces. Saccharomyces cerevisie, il lievito fermentativo, fermenta molto velocemente quest'altro lievito a difficoltà. Questo lo sappiamo da molto tempo. Quando abbiamo proposto questo progetto sapevamo che avremmo dovuto fare dei miglioramenti genetici ai lieviti che si potevano utilizzare. Vi spiegherò quali sono i dettagli del protocollo. A proposito di aromi sappiamo che ci sono due o tre gruppi principali, ovvero sia quelli che vengono dalle varietà di uva. All'interno abbiamo la cisteina e il glutatione, abbiamo i tioli che sono molto di moda e poi i composti glicosidati, i terpeni, i disaccaridi, questi vengono liberati con attività enzimatiche e il lievito può contribuire a questa liberazione con composti che sono importanti perché hanno un impatto importante. Anche se li troviamo concentrazione basse nei mosti come i tioli, i terpeni o i norisoprenoidi. Questo gruppo non è stato molto approfondito e ciò nonostante ha un potenziale molto importante. Le note sono di floreali, fruttati e poi abbiamo quegli aromi che vengono dalla fermentazione alcolica e in questo caso sono associati con il metabolismo degli zuccheri e degli aminoacidi. Questi zuccheri sono i più noti, abbiamo gli acidi grassi, gli isoalcoli superiori, diversi tipi di esteri e questi sono quelli che si trovano a grandi concentrazioni e ne conosciamo molto bene il ruolo. Vicente Ferreira, che forse conoscete, si occupa già da tempo di cercare di convincersi che questi aromi che sembrano minoritari possono avere un ruolo molto importante nel vino se li aumentiamo nel vino. Quindi ad esempio sto pensando agli esteri per questo motivo, al motivo per cui abbiamo avviato questo progetto. Per fare questo progetto la prima cosa che va fatta è fare uno screening, quindi una selezione dei lieviti che ci danno alcune delle proprietà organolettiche che stavamo cercando. Abbiamo una collezione di più di 3.000 lieviti che abbiamo composto nel corso degli anni e con una prima selezione abbiamo selezionato più di 100 ceppi di queste specie e ne abbiamo selezionate alcuno per questa prova visto che era impossibile lavorare con numeri così elevati. Abbiamo fatto fermentazioni nella varietà Tempraniglio, nella varietà Albarigno, quindi molto tipiche in Spagna e l'Albarigno è un vino bianco con un corredo aromatico piuttosto interessante dove abbiamo i tioli che possono contribuire non in misura così elevata come nel Verdejo, nel Sauvignon Blanc, ma comunque sono rilevabili. Quindi abbiamo condotto la fermentazione e abbiamo analizzato questi aromi che potevano migliorare il profilo aromatico facendo vini un po' diversi rispetto a quello che eravamo abituati ad avere e successivamente abbiamo fatto l'ibridazione. Quindi abbiamo dovuto ridurre molto il numero di ceppi in questa parte della prova. Ci siamo concentrati su 14 poiché era una prova complessa e inoltre era difficile condurre le analisi. Questo protocollo che mi accingo a spiegarvi è stato sviluppato da Vicente Ferreira che è l'autore di questa metodica aveva appunto un metodo, quello che faceva lui in corso di vendemmia fare l'estrazione dei precursori aromatici che si potevano congelare e poi utilizzare durante tutto l'anno. Quindi potevamo avere questo mosto di sintesi quindi per avere un contesto molto riproducibile a cui abbiamo aggiunto questa frazione fenolica sia di Albarigno che Tempraniglio. Quindi fermentazione a 15 gradi nel bianco e a 20 gradi nel rosso e in questo caso vediamo questa trappola da cui vediamo gli aromi che vengono catturati alla fine fermentazione e Vicente ha studiato un processo anche di invecchiamento accelerato nel caso dei rossi. Quindi nel caso dei rossi applichiamo anche questo processo accelerato. Quindi abbiamo campioni del profilo aromatico nei vini rossi giovani e in quelli anche invecchiati in barricca. Le slide in italiano aiutano però se fosse possibile andare un attimino più piano. Tengo un occhio sull'orologio. Il problema è che se non si può tradurre è un po' un peccato. Quindi vi voglio mostrare alcuni dei dati fermentativi che possono essere più interessanti. Quindi la prima cosa che bisogna sottolineare come abbiamo visto prima è che il Saccharomyces uvarum aumentava la concentrazione di glicerolo tra 2-5 grammi in più rispetto a Saccharomyces cerevisiae. Abbiamo osservato una cosa che avevamo già visto prima è che queste specie hanno anche una minoresa in etanolo e possono diminuire fino all'1% il grado alcolico nel vino finale. E poi questi lieviti producevano una maggior quantità di acidi organici nel caso dell'uva in particolare succinico, acido succinico con un incremento dell'acidità dei vini. Quindi questi cepi sapevamo già che avevano queste proprietà interessanti ma quelle che abbiamo selezionato quindi mantenevano queste proprietà riduzione del grado alcolico, aumento del glicerolo e aumento dell'acidità. Se adesso ci concentriamo un po' sugli aromi cercherò di focalizzarmi sui più rilevanti perché era molto complesso gestire tutti questi aromi. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare dei lieviti che avessero un profilo diverso. Ci ha stupito un ceppo di Saccharomyces uvarum, quello che vi mostro qui, che era caratterizzato da una produzione abbondante di norisopronoidi, terpeni e esteri accettati. Ma quello che ci interessavano di più erano i norisopronoidi. E con l'invecchiamento, quando si invecchiavano questi vini, questi vini avevano un profilo completamente diverso. Questi lieviti potevano contribuire a avere profili molto diversi rispetto ai ceppi di origine dopo l'invecchiamento. E per quanto riguarda l'aroma, Vicente ha apprezzato molto il profilo che si otteneva perché si vedeva proprio che era il profilo che era importante con i vini invecchiati. Quindi quando abbiamo valutato i risultati per i bianchi, nel caso di Albarigno, una cosa che non vi ho detto prima, abbiamo aggiunto gli estratti fenolici di questa varietà e abbiamo aggiunto anche dei precursori tiolici. Poiché questa varietà non ha alti concentrazioni, volevamo sapere quale fosse il contributo di questo lievito per quanto riguarda i tiolici. Quindi vedete le differenze che abbiamo avuto. Per prima cosa abbiamo visto questi due ceppi Saccharomyces uvamus. Sappiamo tutto che il Saccharomyces uvamum produce molto etilfenolo etilacetato. Questo è ampiamente descritto e qui viene confermato, ma abbiamo visto anche che produceva degli esteri che venivano liberati dagli enzimi specifici di questo lievito. Per quanto riguarda Saccharomyces uvamum, abbiamo visto il profile che ci è parso molto interessante perché vediamo il rilascio sia di tioli che di un terpene limonene. Quindi in questo modo riuscivamo a contribuire maggiormente ad esaltare queste note aggrumate. Ebbene, tutti questi dati ci hanno portato, abbiamo visto che potevano contribuire in modo importante al rilascio di aromi in rosso e in bianco, quindi abbiamo scelto questi lieviti per l'ibridazione. Non entro nei dettagli il processo di ibridazione. Se siete interessati vi posso dare dettagli. Diversi modi per ottenere i libri di confusione dei protoplasti. Questa tecnica non può essere utilizzata in enologia perché si considera un organismo ricombinante. Poi altre approssimazioni, spora, spora. In questo caso il problema metodologico è che il lievito enoico Saccharomyces cerevisiae ha tre copie, quindi è molto eterozigote. Quindi in questo caso c'è un rischio di perdita di informazione genetica e si rischiano di perdere le proprietà dei parentali. La tecnica che utilizziamo, che è più complessa, è l'ibridazione di due lieviti diploidi senza sottoporli ad alcun processo. Quindi in questo caso ci sono molte generazioni che si succedono, c'è un tasso di mutazione normale negli esseri viventi e alla fine abbiamo dei lieviti con un corredo AA e ALFA-ALFA che formano l'organismo tetraploide che abbiamo selezionato. L'importante è avere un buon mezzo di selezione e con il protocollo ovviamente abbiamo centinaia di lieviti. Bisogna iniziare il processo di selezione classico che si utilizza nella selezione dei lieviti. E da tutto questo processo alla fine abbiamo ottenuto sei ibridi, due di uvarum e due di ognuno dei parentali. Con questo ripetiamo le fermentazioni e quello che abbiamo osservato, probabilmente per la temperatura ma anche per la composizione genomica, che nel caso di Albarigno, quando fermentiamo a 16 gradi, abbiamo il ceppo originale di uno degli ibrido che si comportava allo stesso modo nella fermentazione, per Tempraniglio vediamo che abbiamo otto ibridi più idonei alla fermentazione con Tempraniglio. E quando abbiamo fatto la concentrazione di etanolo, quando si ha un ibrido le proprietà rimangono nel mezzo, quindi non hai le proprietà dell'uno o dell'altro. Questo è quello che abbiamo osservato sia con etanolo che con glicerolo, con una riduzione di 0,4 o circa 0,5 dell'etanolo e risultati importanti anche per quanto riguarda il glicerolo. Per quanto riguarda il profilo aromatico, cercherò di andare più velocemente possibile su questa parte, condensando le informazioni senza andare più velocemente. E in questo caso vedevamo che i nostri ibridi mantenevano la proprietà dei parentali sacromice cerevisie per quanto riguarda la produzione di tioli e il rilascio di terpeni agrumati. Come vedete l'incremento qui, ad esempio, del tiole è correlato con l'aroma di pompelmo, non tanto per la frutta e la passione, ma per quello del pompelmo è abbastanza rilevante. Tutti questi sacromice cerevisie producevano elevata concentrazione di esteri e nel caso degli ibridi di uvarum incontriamo degli aromi che erano interessanti per i vini invecchiati, come ad esempio lotta lattone. E poi qui vi mostro un po' la differenza degli aromi sia nel vino giovane che in quello invecchiato e vi posso dire che abbiamo osservato un profilo aromatico molto distinto sia nei vini giovani che in quelli invecchiati e quindi questi ibridi potevano favorire il profilo aromatico dei vini invecchiati. E poi infine tutto ciò l'abbiamo fatto in laboratorio, questa era l'attesi, non avevamo più tempo, poi si è voluto continuare con la demanda per la commercializzazione di questi ibridi e quindi ci siamo concentrati sul cerevisie curacevic con prove su scala industriale e semi-industriale in Spagna, una delle prove che abbiamo fatto con la varietà verdejo in Spagna. Anche se il nostro ibrido era un po' più lento rispetto al parentale cerevisie, alla fine finiva allo stesso modo senza problemi di fermentazione e a livello industriale vediamo che la concentrazione di aromi da liberazione di tioli era importante, quasi il doppio rispetto al parentale cerevisie. E vi vorrei dire che sono state fatte tutte le prove con i lieviti secchi, i lieviti distratati, la validazione che viene fatta normalmente all'interno dell'Allemand e per la prossima campagna prevediamo di avere i lieviti disidratati di questo ibrido. Quindi il Saccharomyces cerevisie è il lievito fermentativo per eccellenza, il superlievito, però queste nuove necessità del settore, così come la richiesta dell'industria e anche dei consumatori che ricercano vini con un minor grado alcolico, con più fruttati, è necessario con il cambiamento climatico aumentare l'acidità ai vini. Quindi possiamo utilizzare non solo questi lieviti a cui siamo abituati, ma anche questi lieviti che si possono utilizzare in coinofculo, come la lacancea e la torulaspera, ma il vantaggio è che essendo dei lieviti Saccharomyces si minimizzano i problemi che si hanno a lato della produzione di lieviti secchi e attivi e questo è uno dei vantaggi principali allo sviluppo di questo tipo di lieviti. Grazie alla vostra attenzione e spero che vi sia l'abbiate trovato interessante. Grazie. Grazie a tutti.